direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 14 febbraio il jackpot ha raggiunto la cifra di 369 milioni 663 mila 841 euro il più alto al mondo è mai raggiunto nella storia del super enalotto le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo real via l'estrazione del concorso numero 19 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero ed il primo numero estratto è il numero 19 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere e il secondo numero estratto è il numero 22 il terzo numero sta arrivando ed il terzo numero estratto è il numero 67 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 85 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite e il quinto numero estratto è il numero 79 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente ed il sesto numero estratto è il numero 71 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 ed il numero jolly di questa sera è il numero 23 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 19 22 67 85 79 71 numero jolly 23 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 e procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre sì perché superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? ecco il numero superstar estratto questa sera è il numero 13 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 19 con la sestina vincente in ordine crescente 19 22 67 71 79 85 numero jolly 23 numero superstar 13 l'estrazione di oggi martedì 14 febbraio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 369 milioni 600 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 19 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del superenalotto assegna 734.512 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 369 milioni 600 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di superenalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 371 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 e nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 63.594 euro ciascuno i 4 sono 858 e vincono 385 euro ciascuno i 3 sono 37.104 e vincono 26 euro ciascuno e i 2 sono 605.975 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 382.367 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 8 e vincono 38.587 euro ciascuno i 3 stella sono 239 e vincono 2647 euro ciascuno 100 euro vanno ai 4.292 2 stella 10 euro ai 27.443 1 stella e 5 euro ai 58.588 0 stella inoltre 185 vincite da 50 euro ciascuna e 27.834 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Super Enalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 16 febbraio giocheremo per un jackpot di 371 milioni 100 mila euro arrivederci grazie 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 grazie